Un divario, quello tra nord e sud, che non si colma, anzi si aggrava, tutto ciò a causa di politiche economiche che non hanno previsto investimenti nel mezzogiorno, ma al più trasferimenti pubblici e tra questi il reddito di cittadinanza che per la Svimez allontana le persone dal lavoro, non le agevola nel trovarne uno. Questi sono solo alcuni dei concetti espressi dal rapporto annuale sull'economia presentato a Montecitorio dall'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel mezzogiorno. L'immigrazione dei giovani, soprattutto laureati, continuerà e lo spopolamento sarà esponenziale. Così, se il sud in 19 anni ha perso 2 milioni di persone, ne perderà altri 5 nei prossimi 47 anni. Nel Molise, nel 2065, gli abitanti saranno 236.746, circa 80.000 in meno rispetto ai 308.493 registrati nel 2018. È come se l'insieme della popolazione di Campobasso e Termoli sparisse. Su questo influisce anche la natalità in Calo e in Molise, è tra le più basse d'Italia il dato 6,2 per mille abitanti. Il reddito di cittadinanza per la Svimez va bene come misura di contrasto alla povertà, ma un contributo monetario può dannosamente far pensare a un sud ancora assistito. In Molise sono state presentate 8.257 domande e i nuclei familiari che ne hanno beneficiato sono 5.634 per un totale di 12.718 persone coinvolte. La percentuale delle domande accolte è del 68,2%, con un importo medio mensile di 466 euro. Unici squarci positivi riguardano il PIL. Il Molise nel 2018 ha segnato un aumento dell'1%, un segnale di crescita significativo, se confrontato col meno 1 dell'anno precedente, quando proprio il Molise fece registrare l'unico dato negativo tra le regioni del meridione. L'economia è stata sostenuta soprattutto dall'industria in senso stretto, che ha registrato una buona performance, più 5,4%, capace di compensare la debole crescita dei servizi e il calo delle costruzioni, meno 1%, e soprattutto quello dell'agricoltura, meno 2,3%. Infine l'occupazione. Il Molise è nella media nei primi due trimestri del 2019, poi è cresciuta, ma rispetto ai livelli pre-crisi, quindi prima del 2008, il dato parla comunque di un 5% in meno. Emorragia demografica sconcertante, le parole di Aldo Patriciello. Le ragioni risiedono in ritardi strutturali, ma soprattutto in una politica che negli ultimi anni è stata poco, ha fatto attrazione meridionalista, ancora il commento dell'euro parlamentare molisano. È tempo di invertire la rotta, perché se non riparte il mezzogiorno non riparte l'Italia. Serve impegno da parte di tutti, nessuno escluso, perché frenare il calo demografico e di conseguenza il degrado sociale, economico e culturale del mezzogiorno è una responsabilità che ricade sull'intera classe dirigente del paese, non solo su quella meridionale. Grazie a tutti.